Ciao a tutti, oggi vorrei realizzare un video in cui colorerò dei disegni da questo piccolo blocco che mi è stato regalato proprio ieri e questo blocco contiene disegni molto particolari credo che il termine specifico sia mandala, fatemi sapere se è giusto, comunque si tratta di disegni composti principalmente di figure geometriche che vengono ripetute e ce ne sono di tantissimi tipi, per esempio questo che somiglia alla tela di un ragno oppure questo che è carinissimo con tutti i cuori, oppure questo che sembra molto complesso e insomma sceglierò un disegno tra questi e lo andrò a colorare con questi piccolissimi minuscoli di pastelli, vedete? Mi piace molto il suono che producono quando vengono sfiorati e la scatolina è carina anche per fare un po' di topping, immagino che non siano pastelli di altissima qualità, però per il nostro scopo insomma vanno più che bene, d'altra parte non vogliamo realizzare un capolavoro semplicemente rilassarci un pochino e tra l'altro non so se avete notato ma questa tecnica del colorare disegni simili a questo che appunto fatemi sapere se si chiamano mandala sta andando molto molto di moda ultimamente e nelle varie librerie ma anche nei negozi diciamo quelli che vendono un po' di tutto come in questo caso Tiger dove è stato acquistato questo si possono trovare blocchi da disegno proprio di questo tipo e quindi niente iniziamo subito anche perché devo cambiare l'inquadratura altrimenti non vedrete niente e fatemi sapere con un commentino qui sotto se questo video vi avrà rilassati, io come al solito li leggerò tutti quanti cerco di rispondere a tutti e mi fanno sempre tanto piacere le vostre parole gentili e niente ci vediamo quindi nel prossimo video se vi vanno, a presto! a presto! Grazie a tutti. 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 a tutti.